Continua a far discutere la delibera della giunta regionale abruzzese che ha programmato l'abbattimento di quasi 500 cervi. Il piano selettivo che dovrebbe partire il 14 ottobre ieri è stato aspremente contestato dal WWF che ha parlato di scelta scellerata. Al dibattito si è giunto oggi il deputato pescarese Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, fermamente contrario alla decisione dell'esecutivo regionale di centro-destra. Sono contrario alla uccisione, seppure selettiva, di cervi sul territorio abruzzese perché da sempre, da quando ero ragazzo, ho nutrito un profondo rispetto per la flora e la fauna di un territorio come quello abruzzese che è definito regione verde d'Europa. Tra l'altro, oltre all'urso, ormai anche il cervo è divenuto uno degli animali simbolo della nostra regione. Si guarda il caso del comune di Villetta Barria dove i cervi sono a contatto con i paesani ma anche con i turisti. La verità è che questa mia dichiarazione non intende creare una crisi di maggioranza né contestare la giunta regionale a guida Marsilio. Intende semplicemente spiegare che forse si può trovare una soluzione alternativa per venire incontro alle giustificatissime esigenze degli agricoltori che vedono evidentemente tanti danni provocati dai cervi. Questo significa però darsi da fare per trovare un'alternativa alla uccisione dei cervi che onestamente penso non sia la soluzione migliore.